Sarebbe stato semplice cambiare allenatore e vedere un Bari diverso, non accade questo nel calcio, non accade quasi quasi mai e curiosamente Marino riparte dal risultato tanto caro al Bari di Mignani in questo campionato, una X addirittura similitudini nel modo di pareggiare perché il ancora una volta in casa è passato in vantaggio e si è fatto raggiungere. Noi speriamo che sia soltanto questione di tempo, dobbiamo augurarcelo che sia così, però dobbiamo anche mettere in conto che magari questa squadra non possa dare molto di più di quanto non abbia dato fino a questo momento, ovviamente noi dobbiamo pensare in maniera diversa, non sperare che qualcosa possa cambiare, però dobbiamo anche mettere in conto questo e devo dire che la brutta notizia è sicuramente quella dell'infortunio a Maiello perché Bari perde uno dei pochi giocatori veramente insostituibili di questa squadra. Non sarà facile questa stagione, però la sensazione sia chiara e netta, oggi c'è anche un ambiente particolare allo stadio, io voglio dire che sì, si parla di play-off, io penserei adesso a fare i punti che servono a stare tranquilli, poi si vede lì.